buongiorno a tutti anzi buon pomeriggio visto che ormai sono le 5 in quarto più o meno di mercoledì e proseguono le schedine e bollettine del gigione per quanto riguarda l'europa league perché i primi due video hanno riguardato la giornata sulle donne la champions di martedì in cui ho parlato anche un attimino di come sono andate le mie bollettine adesso c'è da fare la schedina la schedina dell'europa league sono ben 24 partite ormai lo sapete sono 12 gironi due partite per girone sono 24 partite divise tra le 18 e 55 e le 21 ho già preparato anche tre bollette separate quindi altre 12 partite delle 24 vi ho creato delle bollette ad hoc quindi adesso facciamo la schedina schedina e schedina alternativa dopo farò il video della prima bolletta poi quella della seconda e poi tanto abbiamo tempo perché oggi i criceti sono lenti ho visto che i criceti oggi sono un pochettino lenti e quindi fanno fatica a caricarmi i video quindi in ogni caso abbiamo tempo fino a giovedì alle 18 e 55 io credo che per la mattinata di giovedì siano tutti online comunque bando alle ciance ciancio alle bande partite di giovedì 26 novembre 2020 dell'europa league partiamo con cska sofia young boys x2 per i più coraggiosi 2 molde arsenal x2 per i più coraggiosi 2 è la schedina non è la bolletta quindi diciamo che se magari uno si vuol giocare tutte le 24 partite scusate è meglio se sta schiscio stare schiscio giocare con la doppia anche se paga poco fa niente perché tanto sono 24 partite poi ci sono i bonus e tutto quanto quindi magari non è meglio che le porta a casa perché ci sono quelli che amano giocare 24 partite 30 partite 200 partite perché così vinco 2000 euro e poi sclerano perché ne hanno sbagliata una che è solitamente quella che paga meno proseguiamo con braga leicester x2 ai k tene zoria 1 sparta praga celtic partita da tripla 1 2 la lilla 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 milan 1x anche perché il milan è senza ibra e quindi sono uccelli per diabetici poi magari vanno a vincere vendicano lo 0 a 3 dell'andata milan maccabite la bibbi la real 2 quara bac si va spor 1 2 altra partita da tripla quindi proviamo l'uno 2 lask anvert anversa 1 però attenzione perché quando stavo mettendo l'uno ho detto attenzione all'andversa perché gli ha fatto quello scherzetto lì l'ultima volta all'asqua al tottenham di murigno che ha vinto 1 a 0 se non ricordo male era al tottenham di murigno se non ricordo mai so che era una squadra inglese anversa contro finita 1 a 0 quindi attenzione che non si sa mai che magari gli fa lo scherzetto all'ask bosberger dinamo zagabria 1x csk mosca fejanor 1x liberek offnam 2 gent stella rossa 1x cluj roma 2 puntiamo un po sulla roma che sta facendo molto molto bene in campionato a parte la cavolata di non mettere di mettere il nome sbagliato e perdere tra 0 a tavolino col verona per il resto la roma lena bruta bestia duntan rapibienna 2 leverkusen berceva 1 nizza slavia praga partita da tripla 1 2 standard liegi lec pozzan nonostante lo standard sia leggermente favorito io per me anche questa è una partita da tripla quindi mi arrischio l'uno 2 rangers benfica 1x psv pauc salonico 1 io mi auguro che il psv riesca almeno a battere i greci perché sennò veramente sono messi molto 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 male granada omonia nicosia 1 napoli rieca 1 az alman real sociedad x2 tottenham ludogorez 1 veniamo 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 alla schedina alternativa e parto subito con un azzardo csk sofia young boys goal è un azzardo e ve lo dico subito un azzardo forse meglio l'over 1 e mezzo però mi è sconquinferato il gol poi magari sbaglierò quindi attenzione ragazzoli usate sempre la vostra testa molde arsenal over 1 e mezzo sto schiscio perché l'arsenal è una squadra che a volte ne fa 4 5 ma spesso braccino corto 2 a 0 non di più non sprechiamoci non non facciamo i maramaldi sulla squadra avversaria eccetera eccetera braga le sester over 2 e mezzo questa è una bella gran bella partita ai k atene zoria over 1 e mezzo sparta praga celtico over 1 e mezzo anche questa deve essere una gran bella partita domani me le gusterò con la diretta gol in parte perché starò facendo interlife tra le 6 e le 8 quindi vedremo lì il milan gol mi auguro che il milan almeno un gol al lille riesca a farlo anche se senza ibra è un po arrischiata anche questa è perché all'andata hanno preso tre pappine a zero quindi non so se al ritorno non riuscirà però un gollettino magari leao meraviglia o chi per esso o magari teo hernandez un gollettino lo fanno maccabi telavib villareal over 1 e mezzo quara bago si va spor over 1 e mezzo lasc amber over 1 e mezzo bosberger dinamo zagabria over 1 e mezzo csk mosca feieno da mio rischio e pericolo gol libera e hoffenheim over 2 e mezzo speriamo in bene perché l'ultima volta l'hoffenheim proprio avevo messo l'over 2 e mezzo l'ho preso nel bip perché hanno fatto solo due gol vedremo mi auguro che stavolta regalino gioie ghent stella rossa over 1 e mezzo cluj roma gol perché mi sconquifera un 1 a 3 1 a 2 1 a 3 ecco così la ve la butto lì dundal grappi vienna over 2 e mezzo l'everkusen berceva over 2 e mezzo nizza slavia praga gol perché mi mi acchiappa per me un qua viene fuori purtroppo messo l'1 a 2 ma minimo un 1 a 1 salta fuori 1 a 2 come o vince una vince l'altra come opzione e quindi per me almeno un gol per parte saltano fuori in questa partita poi succederà quello che deve succedere standard diegi lec pozzano over 1 e mezzo ranger benfica gol psv pao salonico over 1 e mezzo granada omonia nicosia over 2 e mezzo napoli rieca over 2 e mezzo perché mi auguro che il napoli almeno tre gol a rieca anche per farsi perdonare la sconfitta contro il milan lì vorrà fare nonostante purtroppo allo stadio non ci sarà nessuno ma i napoletani che guarderanno la partita da casa o la sentiranno per radio tramite tramite puntini puntini vorranno vedere un bel napoli ecco per intenderci a z almar rea sosedada altra bella partita io dico gol anche se rea sosedada è favorito naturalmente e tottenham ludogorez over 2 e mezzo perché mi auguro che il tottenham tre gol a ludogorez riesca a farli detto questo io vi saluto vi ringrazio vado a recuperare le schedine e bollettine così vi preparo anche gli altri 4 e 3 video e poi piano piano li caricherò ve l'ho detto c'ho i criceti che oggi sono un attimino più lenti del solito si vede che non fa sufficientemente freddo e non hanno voglia di muoversi detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao